Sconti Adelphi, cosa vorrei comprare? Ciao a tutti e a tutte, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Marianna e qui parleremo di libri. È arrivato quel momento dell'anno molto atteso da tutti i lettori e le lettrici, ossia il momento in cui la casa editrice Adelphi mette il 20% di sconto sui suoi titoli. È un'occasione molto ghiotta per chi ama leggere, per chi ama questa casa editrice che ci ha sempre regalato tante gioie. Oggi vedremo i libri che io vorrei comprare, quelli che ho in wishlist. Ho già fatto un video per gli sconti Adelphi in cui invece vi consigliavo dei libri che io ho letto e che quindi sapevo, conoscevo e che volevo consigliarvi. Vi lascio qui il link così potete andare a recuperare e prendere spunto se volete fare questo acquisto o qualche acquisto se volete lasciarvi tentare e magari poi decidere. Gli sconti continueranno anche fino a febbraio, adesso non ricordo precisamente quando, quindi c'è tempo un po' di farsi un'idea e lasciarsi incuriosire e ingolosire dai vari consigli che si trovano online. Prima di procedere con la mia wishlist vorrei ricordarvi di iscrivervi al canale. Lo faccio sempre di meno, non lo faccio quasi mai, però magari questo è un video che arriverà a più persone perché gli sconti sono comunque un argomento che interessa a parecchie persone. Magari se vi va potete iscrivere il canale e sostenerlo, siamo quasi a mille iscritte e mi piacerebbe raggiungere questo obiettivo. È un canale che parla di libri, ci sono varie rubriche e da gennaio ho anche cominciato un gruppo di lettura che ha un canale Telegram, questo insomma era un momento di promozione, non lo faccio mai, però insomma approfitto di questa occasione. Ma veniamo a noi e vediamo quali sono quei titoli che ho in wishlist e che non so se comprerò o meno perché in realtà io ho tanti libri non letti a Delphi nella mia libreria, quindi per punirmi perché devo finire quelli che già ho probabilmente non li comprerò, ma chi può dirlo se resisterò anche perché già preparando il video, rivedendo la wishlist adesso parlandone, già so che mi verrà una voglia assurda di comprarne almeno due, ma andiamo a vedere quali sono. I primi due titoli che ho messo in wishlist sono due titoli che mi interessano perché sono letture potenzialmente adatte ai ragazzi. Ai ragazzi questa è una fascia d'età liceale, quindi letture da adolescenti. Io, per chi non lo sapesse, insegno, al momento insegno alla scuola secondaria di primo grado, quindi le scuole medie. Ho già dedicato un video alle letture per quella fascia d'età, ma sono sempre alla ricerca di libri da consigliare perché secondo me per stimolare la lettura si devono avere degli strumenti e si devono saper dare anche delle indicazioni. Il primo titolo che ho scelto per questa categoria è Un giorno questo dolore ti sarà utile di Peter Cameron, un romanzo del 2007. Allora, Peter Cameron è un autore molto apprezzato, ma nello stesso tempo anche criticato, forse per uno stile di scrittura un po' troppo superficiale. Questo è un titolo che alcune ragazze del primo anno del liceo hanno letto e apprezzato molto ed è considerato una sorta di giovane olden modello moderno. Abbiamo un protagonista, James, che è 18 anni e sta vivendo l'ultimo anno prima della scelta dell'università. La madre è una gallerista d'arte e lui quindi vive circondato da queste opere d'arte contemporanee, alcune comprensibili e altre molto meno, e vive in questo limbo tra la fine del liceo e l'inizio dell'università. Deve trovare il suo posto nel mondo ed vive profondamente un disagio. Lui è la figura del ragazzino disadattato, non viene un po' definito così. Almeno da quanto ho letto in giro, perché vi ripeto, sono libri che non ho letto e quindi mi sono fatta una mia idea senza conoscerli. Però quello che mi ha colpito e mi ha interessato di questa storia è appunto questo legame con il giovane olden, questa modernità e il fatto che possa piacere molto agli adolescenti. Infatti è un libro molto riflessivo che vede il protagonista parlare in prima persona e porsi tutta una serie di domande, elaborare delle riflessioni nelle quali ci si può vedere se si ripensa come si era a quell'età. Tra l'altro da questo romanzo è stato tratto anche un film di Roberto Faenza. Roberto Faenza è un regista che apprezzo particolarmente e in modo speciale mi piace per Prendimi l'anima, uno dei miei film preferiti, uno che forse negli anni del liceo e all'inizio dell'università ho visto tantissimo. Adesso sono anni che non lo vedo, ma resta uno dei film che preferisco. Quindi sono anche curiosa di questo prodotto cinematografico tratto dal libro. Quindi questa è una di quelle storie che ho lì per questi motivi. Ovviamente per ogni libro mi aspetto poi un vostro commento, se l'avete letto, se vi interessa, se me lo consigliate o meno. L'altro romanzo, sempre adatto a un pubblico giovanile, ma non solo, è La mia famiglia e altri animali, di Gerard Durel. È stato un naturalista britannico, quindi un appassionato, uno studioso di zoologia, un esploratore, un viaggiatore. Quindi un personaggio veramente complesso, insomma, che ha avuto vari interessi nella sua vita e che poi ha anche scritto appunto dei romanzi. Tra l'altro il fratello invece è diventato poi un romanziere di successo. La mia famiglia e altri animali mescola l'autobiografia alla sua passione naturalista. Ci racconta di quando trascorse con la sua famiglia appunto una vacanza estiva a Corfu, tra il 1935 e il 1939. Quindi ogni anno queste vacanze estive in quest'isola greca. Sono rappresentati tutti i protagonisti, tutti i membri della sua famiglia ed è una storia che ha molto materiale anche comico, umoristico, che sa appunto fare dei parallelismi tra le persone, come si comportano le persone e la fauna, la vita animale. Quindi mi sembra un titolo molto interessante, tra l'altro un titolo molto estivo. Quest'idea delle vacanze familiari d'estate, quest'isola greca è un titolo che volevo leggere già da un po' dall'estate scorsa e che ho visto molto in giro. Un titolo di cui si parla spesso e secondo me sicuramente da tenere sott'occhio. Ora veniamo a due titoli che sono quelli che mi ingolosiscono di più. Quelli per i quali forse forse faccio un pensierino. E sto parlando di Mentre morivo di William Faulkner. Faulkner è uno dei più importanti autori americani del Novecento, premio Nobel nel 1949, è un modernista statunitense. Si ricollega quindi alla tradizione del romanzo modernista europeo di Joyce, Virginia Woolf e Proust. Quindi si ricollega a quella particolare tecnica del romanzo modernista che prevede anche l'utilizzo del flusso di coscienza. E Mentre morivo è uno dei titoli più noti di questo autore, è proprio incentrato, impostato su questa strategia narrativa. Tra l'altro, proprio in questi giorni, mi era capitato di avere sott'occhi la lista dei libri più amati da David Bowie, un cantante, un artista che amo particolarmente. E tra questi c'era anche Mentre morivo di Faulkner, quindi un motivo in più mi sembra per leggere quest'opera. L'avevo infatti condiviso nelle storie Instagram, approfitto, se non mi seguite su Instagram, seguitemi anche lì, mi trovate come Manny Illiano. Ma torniamo a noi e parliamo di Faulkner. Il titolo già riecheggia una reminescenza omerica, ossia riprende un verso dell'Odissea. Parla in particolare della fine poi di Agamennone, che verrà ucciso dalla moglie Clitennestra. Quindi Mentre morivo, perché la moglie non gli chiuderà nemmeno gli occhi. Questo titolo, questa citazione, questo rimando al mondo greco, insomma, delle guerre americhe, per chi mi segue, mi conosce, già sa che sono la mia passione, insomma, però ci introduce nel tema del libro, che è un tema ovviamente funebre. C'è il tema principale, è la morte. Ci troviamo nel Mississippi, c'è una regione del Mississippi, un paesino immaginario. Il romanzo fa parte di quel sottogenere letterario definito Southern Gothic, e c'è una famiglia di contadini poveri che va a prendere il cadavere ormai della madre, della moglie, che è morta, che vuole essere portata nel suo paese natale. Quindi devono trasportare questa salma, e mentre la trasportano, quindi fanno questo viaggio, che assume molte valenze simboliche e allegoriche. Infatti dovranno affrontare un'inondazione, variamenti naturali, avversi, e ogni personaggio, attraverso il flusso di coscienza, racconterà la propria storia, mettendo in luce le proprie debolezze, facendo uscire fuori i rancori verso gli altri membri della famiglia. Quindi, mentre la fabola è molto semplice e lineare, c'è questo viaggio per portare la salma di questa donna nel suo paese natale, c'è un intreccio molto complicato, perché all'interno di questi flussi di coscienza noi andremo a ripercorrere tutta la storia e la vita di questa famiglia. È un romanzo sicuramente molto complesso, da un linguaggio non semplice, e anche le recensioni che ho letto in giro si dividono tra chi l'ha amato, riconoscendone il valore letterario di capolavoro del Novecento, e chi invece ha avuto qualche difficoltà. Lo sa bene chi prova a leggere Joyce, Wolf e Proust, che sono scritture non affatto scorrevoli, ma che presuppongono una certa predisposizione anche da parte del lettore, che deve essere pronto a lasciarsi trasportare dalla voce del narratore e da una trama che non è sempre semplice e lineare. Io lo vedo un romanzo molto sfidante anche, per questo mi appassiona. Poi, amando particolarmente Virginia Wolf, vi lascio sempre rimando al video che le ho dedicato, e avendo letto soltanto il primo romanzo della Recherche di Proust, ma avendolo amato molto, anche qui vi lascio riferimento, insomma, mi incuriosisce molto, e Faulkner è uno di quegli autori in una mia lista ideale che voglio sicuramente recuperare. Veniamo all'altro romanzo che mi ingolosisce, ed è Rincorrendo l'amore di Nancy Mitford. Nancy Mitford è già di per sé un personaggio molto interessante, è la figlia del barone Raidersdale, nata a Londra e morta a Versailles, quindi ha vissuto l'alta società inglese e francese, perché appunto, essendo figlia di un barone, lei ci racconta questo romanzo, che è il primo suo romanzo di successo, ne aveva scritto altri quattro che non avevano avuto grande fama, ci racconta l'alta società inglese. Perché mi appassiona questo personaggio? Nancy Mitford appunto appartiene a questa famiglia di sorelle che hanno segnato un'epoca, si trovavano spesso sui giornali, erano portatrici di mode, di influenze, delle sorelle che facevano sempre parlare di sé. Tra l'altro, una di loro, Diana, era l'amante di Oswald Moseley, capo del partito fascista inglese, personaggio che compare nei Peaky Blinders, altra mia grande passione. Io ho finito Peaky Blinders, mi sento orfana di quel mondo, orfana di Tommy Shelby, quindi cerco sempre qualche legame che mi riporte a quell'atmosfera. E nell'ultima stagione c'è rappresentata questa Diana, che appunto vive questa fase con Oswald Moseley, che poi non andrà proprio bene. Nancy, infatti, la sorella, all'inizio si avvicinerà, ma poi si staccherà molto e anzi, nei suoi libri farà una critica al fascismo europeo e anche a quello inglese. Quindi ci troviamo proprio nel pieno del Novecento, alta società inglese, tematiche politiche, tematiche sociali, personaggi di rilievo, una scrittrice che secondo me è assolutamente da riscoprire. Rincorrendo l'amore, come vi dicevo, è il primo romanzo di successo del 45, se non sbaglio, e è stato tradotto in Italia varie volte con dei titoli diversi, inseguire l'amore, la ricerca dell'amore, se non sbaglio. Poi, Rincorrendo l'amore, è la traduzione, l'ultima, ad Elfi, appunto, uscita da poco, di Silvia Parischi, che l'ha rivista. E questo, diciamo, è uno di quei titoli, anche qui, che mi appassiona molto, mi incuriosisce, proprio per tutti questi aspetti, per tutte queste premesse, preamboli, che me lo fanno diventare, insomma, me lo fanno salire molto in alto nella mia wishlist. Veniamo adesso a due titoli di no fiction, di saggistica, che ogni tanto non guasta. Il primo è Quando abbiamo smesso di capire il mondo di Benjamin Labattou, un libro uscito, se non sbaglio, l'anno scorso, del quale si è parlato tantissimo, l'ho visto molto in giro sui social, è un saggio divulgativo sulla scienza moderna. Partendo dalla scoperta del Bru di Prussia, l'autore ci porta a vedere le tappe principali della scienza moderna e del legame che poi si è perso, l'uomo ha perso con la realtà. Già il titolo mi appassiona molto, perché io non penso di aver capito il mondo, quindi quando abbiamo smesso di capirlo, è un passo ulteriore. Anche qui c'è una sfida particolare. Tra l'altro, non è un genere di saggistica questa scientifica che leggo molto spesso. Ho letto sette brevi lezioni di fisica, ma è stato un caso a sé. Ultimamente ho letto Sapiens di Aradi, quindi un po' la no fiction mi sta appassionando. Queste tematiche, secondo me, sono molto interessanti, perché poi ci spingono a riflettere anche su molti aspetti della nostra contemporaneità. Secondo me sono letture assolutamente da tenere in considerazione. e forse è l'urgenza di questi tipi di scritti di leggerla nei momenti in cui sono stati scritti, perché poi, insomma, col passare del tempo perdono un po' di attualità, diventano più documenti storici che attuali. Quindi sarebbe forse il caso, se si vuole leggerli, di considerare, insomma, un periodo breve in cui acquistarli. L'altro, invece, titolo è di critica letteraria. Stiamo parlando di un testo fondamentale, cioè lezioni di letteratura di Nabokov. Di quest'autore ovviamente conoscete tutti il romanzo più famoso, cioè Lolita, che io ho in ebook e che non ho mai letto. Mi vergogno particolarmente di non averlo ancora fatto, ma è un romanzo che richiede un certo impegno emotivo da quanto ho capito. È un autore molto importante sia per la sua scrittura che per il suo impegno e il suo lavoro di critico e studioso. Infatti, queste lezioni sono un'opera postuma che riprendono le lezioni che lui ha tenuto nei collegi in America nei quali ha insegnato. Sono divise in sette capitoli e ogni capitolo è dedicato ai grandi autori della narrativa europea. Quindi abbiamo anche Dickens, Jane Austen e molti altri e sono appunto delle lezioni universitarie. Io ho letto per motivi di studio, per motivi anche di passione, il romano del Novecento di De Benedetti, Giacomo De Benedetti, che è un po' come storia georeale e simile perché appunto sono le sue lezioni universitarie raccolte poi in una fase successiva. Il romano del Novecento ci racconta appunto la nascita del romanzo modernista in contrapposizione a quello naturalista. Quali sono le caratteristiche del romano del Novecento? Sono temi sempre molto appassionanti, forse per addetti insomma, però secondo me visto che noi lettori ci appassioniamo molto di classici, sarebbe bene capire quali sono le caratteristiche che definiscono un classico dell'Ottocento e quali invece un classico del Novecento, quali sono le differenze, che cosa è accaduto a livello anche gnosiologico, insomma, che coinvolge tutta la conoscenza e la società che ha determinato poi un nuovo stile in letteratura. Io, perdonatevi, sono laureata in lettere, in filologia, quindi queste sono tematiche che mi appassionano sempre e che studio comunque sempre, quindi questo è uno di quei titoli che sicuramente mi farebbe piacere avere nella mia libreria. Altro libro che vorrei leggere è La foresta della notte di Jonah Barnes. Questo titolo è familiare a chi ha letto libri che mi hanno rovinato La vita di Daria Pignardi, un libro uscito l'anno scorso, io l'ho ascoltato in audiolibro, che mi ha colpito perché l'autrice attraverso la propria storia personale ripercorre quali sono stati i titoli che l'hanno più influenzata, che hanno in qualche modo anche influito sulla sua personalità e questo libro in particolare è uno di quei romanzi che hanno dato a Daria Pignardi la voglia di essere controcorrente di vivere la vita anche con una certa passionalità insomma è un romanzo che ha avuto un grande successo Jonah Barnes è una scrittrice nata a New York che ha influenzato molti autori del Novecento molti insomma hanno riconosciuto l'importanza di questa autrice e questo romanzo è stato ha un'introduzione di Elliot che lo introduce come un romanzo fondamentale è in parecchie classifiche dei migliori libri del Novecento lei è una scrittrice omosessuale che quindi tratta queste tematiche nella Parigi degli anni venti attraverso poi i vari personaggi secondo me è uno di quei titoli per i quali sicuramente ringrazio Daria Pignardi insomma mi fa piacere aver letto perché non ne avevo mai sentito parlare ma mi sembra una storia assolutamente da recuperare l'ultimo titolo è un romanzo molto breve La peste scarlatta di Jack London di Jack London ho letto Il vagabondo delle stelle e mi è piaciuto tanto c'è sia insomma ne parlo sia in un video wrap up che in un post sul feed di Instagram vorrei leggere Martin Eden che è invece un romanzo molto più impegnativo in termini di lunghezza questo è un libricino più breve che ha come tematica un tema post apocalittico cioè ci troviamo nel 2073 in una San Francisco devastata da un'epidemia di peste questa peste rossa che ha insomma portato a un calo drastico della popolazione è un precursore di tutti quei romanzi post apocalittici che hanno segnato gli ultimi anni ovviamente uno dei riferimenti che ci viene più immediato è La strada di Comark McCartney che ho letto è un libro anche quello molto breve molto intenso che rimane mi piacciono molto queste visioni post apocalittiche nei quali gli autori riescono a far emergere la propria visione della società proiettandola nel futuro Jack London è sicuramente un autore da leggere da studiare è un grande autore americano che appunto si è occupato anche molto di tematiche sociali nello stesso vagabondo delle stelle lui affronta anche il tema delle condizioni carcerarie sempre in California bene queste erano le letture che mi interessavano di più fatemi sapere se qualche titolo vi incuriosisce se li avete letti e se me li consigliate o se avete qualche informazione in più da darmi io vi ringrazio per l'attenzione ci vediamo al prossimo video